24 luglio 1957. La madre legge un passaggio da La Manifestazione Sopramentale di Sri Aurobindo. In effetti, il sopramentale è già qui, ma involuto, nascosto dietro il mentale, la vita e la materia visibile, e non agisce ancora apertamente, né secondo il suo proprio potere. Se agisce, è attraverso i poteri inferiori e modificato dal loro carattere. Dunque non è ancora riconoscibile. È solo quando si avvicinerà e arriverà il sopramentale discendente che questo sopramentale involuto potrà essere liberato sulla terra e potrà rivelarsi nell'azione dei nostri elementi materiali, vitali e mentali, in modo che questi poteri inferiori potranno fare parte dell'attività totalmente divinizzata del nostro essere integrale. In verità è così che la vita e il mentale involuti nella materia si sono realizzati qui, perché solo ciò che è involuto può evolvere, altrimenti non potrebbe emergere. Non c'è madre. Che cos'è il sopramentale involuto? La madre è lo stesso di quello che non lo è. È la stessa cosa quando Sri Aurobindo dice che se il divino non fosse al centro di ogni cosa, non potrebbe mai manifestarsi nel mondo. È la stessa cosa quando dice che, essenzialmente, nella sua origine e nella sua struttura più profonda, la creazione è divina. Il mondo è divino. Ed è per questo che la divinità potrà manifestarsi un giorno. Di venire tangibile, esprimersi pienamente al posto di tutto ciò che la vela e la deforma adesso. Fino ad ora, tutto ciò che si è manifestato di questa divinità è il mondo come lo conosciamo. Ma la manifestazione è illimitata e dopo questo mondo mentale come lo conosciamo e di cui l'uomo è il prototipo e il culmine, ci sarà un'altra realtà che si manifesterà, che Sri Aurobindo chiama sopramentale, perché in effetti è il passo successivo dopo il mentale. Allora, visto dal mondo come è, esso sarà naturalmente sopramentale. E cioè qualcosa che è al di sopra del mentale. E dice anche che sarà veramente il cambiamento da un mondo a un altro, perché fino ad adesso tutta la creazione apparteneva a ciò che egli chiama l'emisfero inferiore. Così come lo conosciamo, che è governato dall'ignoranza e basato sull'incoscienza. Mentre l'altro sarà un rovesciamento completo. L'apparizione di qualcosa che apparterrà ad un mondo del tutto diverso e che invece di essere basato sull'ignoranza, sarà basato sulla verità e per questo sarà veramente un mondo nuovo. Ma se l'essenza, il principio di questo mondo, non fosse incluso nel mondo così come l'abbiamo conosciuto, non ci sarebbe nessuna speranza che l'uno si trasformi nell'altro. Sarebbero due mondi così totalmente differenti e opposti che non avrebbero alcun contatto fra loro e che necessariamente nel momento in cui si uscisse e si emergesse in questo mondo di verità, di luce e di conoscenza, si diventerebbe per così dire impercettibili, inesistenti per un mondo che appartenesse esclusivamente all'ignoranza e all'incoscienza. Ciò fa sì che, anche quando questo cambiamento avrà avuto luogo, ci sarà una relazione. Questo mondo nuovo potrà avere un'azione sul vecchio. Questo perché nella sua essenza e nel suo principio esso è già rinchiuso, involuto nel vecchio. Allora infatti esso è là, dentro, nel fondo, nascosto, invisibile, impercettibile, inespresso. Ma esso è là, nella sua essenza. Pertanto, a meno che le altezze superiori non manifestino la coscienza, la forza e la luce sopramentali direttamente nel mondo, così come è accaduto un anno e mezzo fa, mai questo sopramentale che è in principio al fondo del mondo materiale, così com'è, mai avrebbe la possibilità di manifestarsi. Il suo risveglio e la sua apparizione in basso saranno la risposta ad un contatto che viene dall'alto e che farà sorgere l'elemento simile che si trova al fondo della materia, così com'è. È, d'altronde, ciò che si sta manifestando. Ma, come vi ho detto due settimane fa, questo mondo materiale, così com'è, visibilmente, effettivamente, è così potente, così assolutamente reale per la coscienza ordinaria, che, per così dire, ha inghiottito questa forza e questa coscienza sopramentale quando si è manifestata, che è necessaria una lunga preparazione perché la sua presenza possa essere solamente percepita, sentita, sentita in qualunque modo, ed è di questo lavoro che si sta occupando in questo momento. Il tempo di cui tutto questo avrà bisogno è difficilmente prevedibile. Questo dipenderà molto dalla buona volontà e dalla ricettività di un certo numero, perché l'individuo avanza sempre più velocemente della collettività e, per sua natura, l'umanità è destinata a manifestare il sopramentale prima del resto della creazione. Alla base di questa collaborazione c'è necessariamente la volontà di cambiare, di non essere più ciò che si è, che le cose non siano più quelle che sono. Ci sono molti modi per arrivarci e tutti i modi sono buoni quando funzionano. Si può essere profondamente disgustati di ciò che si è e volere con ardore uscire da tutto questo e arrivare a qualcosa d'altro. Si può, e questo è il modo più positivo, si può sentire dentro di sé il contatto, l'avvicinarsi di qualche cosa di positivamente bello e vero e lasciar cadere tutto il resto volontariamente, perché niente appesantisca il cammino verso questa bellezza e questa verità nuova. ciò che è indispensabile in ogni caso è l'ardente volontà del progresso, la rinuncia volontaria e gioiosa a tutto ciò che ostacola il cammino, cioè rigettare lontano da sé ciò che vi impedisce di avanzare e andare verso ciò che è sconosciuto con la fede ardente che è la verità di domani, ineluttabile che si produrrà necessariamente, che niente, né nessuno, nessuna cattiva volontà, neanche quella della natura, potrà impedire che diventi realtà, forse in un futuro non lontano, una realtà che si sta elaborando in questo momento e che coloro che sanno cambiare, che riescono a non farsi appesantire dalle vecchie abitudini, avranno sicuramente la fortuna non solo di percepire, ma di realizzare. ci si addormenta, si dimentica, ci si lascia vivere, si dimentica, si dimentica tutto il tempo, ma se ci si potesse ricordare che si è in un'ora eccezionale, in un'epoca unica, che si ha questa immensa fortuna, questo privilegio inestimabile di assistere alla nascita di un mondo nuovo, ci si potrebbe facilmente sbarazzare di tutto ciò che ci appesantisce e che non ci permette di avanzare. così la cosa più importante è ricordarsi di questo. Anche quando non se ne ha l'esperienza tangibile, ricordarsi di avere la certezza e la fede, ricordarsi sempre, ricordarselo costantemente, addormentarsi con questa idea, svegliarsi con questa percezione. Tutto quello che si fa, farlo con questo, come un supporto costante, questa grande verità che stiamo assistendo alla nascita di un mondo nuovo. Noi possiamo partecipare, noi possiamo diventare questo mondo nuovo e veramente, quando si ha un'occasione così meravigliosa, si deve essere pronti ad abbandonare tutto per questo.